In piazza della Repubblica Melzo, Melzo il 25 di maggio, come tanti altri comuni va al voto, ma qui abbiamo degli ospiti speciali. Angelo Stucchi, sindaco di Gorgonzola. Vincenzo Rocco, sindaco di Masate. Eugenio Comincini, sindaco di Cernusco-Sunnaviglio. Alberto Fulgione, sindaco di Liscate. Angelo Caterina, sindaco di Pozzola-Martesana. Sindaci della Martesana, dunque, che hanno ottimi motivi per dirvi perché Antonio Bruschi deve diventare sindaco di Melzo. E allora li sentiamo, da Gorgonzola. Antonio, perché in questo momento in cui l'amministrazione si trova davanti a sfide difficili, è importante saper consolidare e innovare. Antonio, queste caratteristiche, di saper consolidare per dare identità forte alla sua città, ma anche di innovare e quindi di accettare le nuove sfide. Da Masate, Antonio Bruschi, perché Melzo è una realtà territoriale molto importante. È necessario quindi che ci sia, proseguo questo rinnovamento, ci sia una forte innovazione e slancio per le attività del territorio. Da Cernusco-Sunnaviglio. La Dama Artesana sta facendo ormai da tempo un lavoro importantissimo in vista della costituzione della città metropolitana. Un appuntamento importante che dal primo di gennaio vedrà coinvolti tutti quanti i comuni. Abbiamo bisogno di consolidare dal punto di vista politico la presenza degli amministratori, dei sindaci del Partito Democratico, affinché il progetto della città metropolitana e il contributo dell'Adda Martesana possa essere particolarmente significativo. Melzo è una città importante di questo territorio, c'è bisogno che anche Melzo sia governata da forze di centrosinistra, da un sindaco del Partito Democratico. Da Liscate. Perché all'interno della città metropolitana diventa importante anche il progetto delle unioni dei comuni, fra i comuni dell'Adda Martesana, quindi una sorta di cooperazione. Abbiamo bisogno che Melzo, al centro dell'Adda Martesana, abbia un sindaco capace e lungimirante, quale è Antonio. L'auspicio è quello di poter partire con questa cooperazione, con questa unioni dei comuni dell'Adda Martesana. Da Pozzuolo Martesana. Beh, perché Antonio deve riportare Melzo ad essere il centro della Martesana. Melzo ha sempre avuto la leadership ed era appunto di riferimento per tutti i comuni della Martesana. Ultimamente non lo è più, Melzo deve ritornare ad essere punto di unione, di coesione e non di divisione tra i comuni della Martesana. E Antonio Bruschi ha una squadra, una squadra su cui puntare, per la quale, lo chiediamo al rappresentante del comune più grosso, bisogna puntare forte su questa squadra. Perché? Una squadra sulla quale bisogna puntare forte perché la squadra stessa ha messo in campo un carico da 90. Il Partito Democratico ha candidato qui a Melzo il proprio segretario provinciale, Pietro Bussolati, che è candidato appunto al Consiglio Comunale. Credo che da parte di Pietro sia stato un gesto di grandissima responsabilità, ma anche di umiltà, mettersi in gioco in una città della provincia. Perché? Per quale ragione? Perché Pietro crede fermamente a quel progetto di città metropolitana a cui accennavo prima. Se anche Melzo entrerà a far parte del nuovo ruolo di comuni amministrati dal Partito Democratico, avrà la possibilità di avere tra i propri eletti nella propria squadra, ce l'auguriamo ovviamente, e Pietro Bussolati che giocherà con il ruolo di Consiglio Comunale un gioco importante in vista della costituzione di questa nuova importante istituzione. E allora, 25 maggio a Melzo, Antonio Bruschi, sindaco, con il sostegno della capolista Serena Righini e di un carico da 90, come detto, il segretario provinciale Pietro Bussolati. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando.